Le priorità del PD dopo il voto sono state al centro dell'Assemblea regionale del Partito Democratico che si è svolta ad Atri nella sala consigliare in Piazza Duchi d'Acquaviva con la partecipazione di Stefano Vaccari, responsabile nazionale dell'organizzazione del PD. Nel corso dell'evento è stato presentato anche il Manifesto per l'Abruzzo che servirà a costruire la coalizione che contenderà la guida della regione alla destra nel 2024 come spiega Michele Fina, segretario del PD Abruzzo. L'Assemblea del PD abruzzese, che è un po' il nostro parlamentino con oltre 150 delegati da tutto Abruzzo si è riunito ad Atri per analizzare il voto guardando in prospettiva. In prospettiva c'è la priorità di mettere al centro della nostra agenda i temi che interessano le abruzzesi e gli abruzzesi a partire dal lavoro, dalla povertà, dal lavoro povero e quindi da un intervento significativo sui salari e da un accompagnamento nella transizione ecologica, tecnologica dell'industria di tutti perché nessuno resti indietro. Bene, noi abbiamo proposto questo e altri temi, questo nostro manifesto ai nostri alleati o alleabili, forze politiche, associazioni e movimenti, ai quali abbiamo anche detto costruiamo insieme una conferenza programmatica per il futuro dell'Abruzzo che dia sostanza all'alternativa che serve a questa giunta. Barsilio, sempre più aliene e distante dagli interessi della nostra regione. Quindi partire dai temi, dalle priorità per dar vita a una coalizione e poi dar vita a un'alleanza che sia coronata da una candidatura alla presidenza forte e rappresentativa di tutte queste energie. Abbiamo voluto naturalmente rimarcare anche l'importanza delle elezioni amministrative. L'anno prossimo dei comuni sopra 15 mila abitanti sono chiamati a rinnovo il comune di Silvi e il comune di Teramo, uno dei quattro capologhi di provincia che è amministrato bene da Gian Guido d'Alberto che deve essere confermato sindaco con il nostro sostegno. E poi l'anno dopo, insieme alle elezioni regionali, Pescara, Montesilvano e Giulianova, quindi tre comuni molto importanti. Quello che sta accadendo anche a livello nazionale ci riguarda naturalmente. Guardiamo con rispetto anche a quello che sta accadendo nel mondo del Movimento 5 Stelle, ma noi vogliamo dialogare con tutti i protagonisti di quella esperienza, così come con i civismi che sono molto importanti per la nostra regione. Insomma, per vincere le elezioni regionali c'è bisogno di un campo largo, di una coalizione larga, di un progetto chiaro e di candidature forti. E noi siamo molto concentrati a costruire questo.